Si è conclusa con 62.500 presenze la settima edizione di Internazionale, il Festival di giornalismo organizzato dal settimanale internazionale dal Comune di Ferrara, che quest'anno ha coinciso con i 20 anni della rivista diretta da Giovanni De Mauro. Un'edizione, quella appena conclusa, decisamente più ricca rispetto alle annate passate, nonostante qualche big in meno, i numeri sono decisamente positivi, al 30% di eventi in più segue un aumento assoluto di pubblico, nonostante il maltempo inclemente. Le persone che vengono al Festival internazionale sono delle persone molto interessate, molto incuriose, molto coinvolte sulle cose che succedono nel mondo, è uno dei grandissimi pregi e successi di Internazionale come giornale e poi dell'organizzazione del Festival che è diventato appunto un pezzo rilevante delle attività di Internazionale. Questo appunto sul tema della conoscenza dell'informazione del mondo e anche sul tema dell'impegno rispetto ai diritti e ai problemi del mondo. Però io penso che veramente il lavoro maggiore e che non si fa abbastanza è il lavoro di informazione, prima ancora del lavoro di attivismo a cui si parlava un dibattito di oggi e per questo appunto il lavoro internazionale di questo Festival è così prezioso. I numeri del resto sono eloquenti, 45 testate presenti, oltre 250 ore di programmazione per 149 incontri in 22 location per un Festival che fissa già l'appuntamento all'anno prossimo.